Allora siamo gli operai della Roma Multiservizi che stiamo in occupazione qui al Campidoglio dal 26 maggio. Oggi hanno trovato un momento in cui stavamo mangiando perché ci era vietato mangiare dentro l'aula Giulio Cesare e hanno chiuso la porta cacciando con la forza il nostro collega Franco. Adesso praticamente siamo reclusi in questo spazio, questa porta è chiusa, di qua è chiuso, sequestrati in questo spazio, cacciati in una maniera indegna mentre facevamo una protesta pacifica. È arrivata la responsabile della sicurezza signora Matarazzo che non vedeva l'ora di cacciarci ma andava a vigili appositamente a farci pressioni psicologiche e materiali. Abbiamo subito cose tipo aria condizionata spenta, un nostro collega si è sentito male per la mancanza di ossigeno. Abbiamo subito cose come il divieto di farci arrivare cibo e adesso questo è quello che sta succedendo qui, sequestrati in questo spazio. Questi sono i colleghi.